Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono 66 e benvenuti in questo nuovo gameplay Oggi siamo sempre su Code Adventure Warfare Siamo su una nuova mappa, la mappa è nevata, la chiamo io che non capisco almeno come si chiama Anche perchè il russo non è My Friends Quindi what? Sì, sto lagando come il pazzo adesso, what the fuck, ti ripigli? Bravo Code, ti ripigli Allora, c'è alcune mappe in cui vado più fluido, questa non è una di quelle Quindi what? Ok E ho un problema logistico col mirino, nel senso che non voglio usare il mirino standard E quindi ho preso il mirino più figo E mi sembra carissimo, quindi what the fuck, bello Ah, dopo il mirino questo, perché mi fa schifo What the fuck, quanta gente Ecco quel pompa di cui vi parlavo nella scusa puntata ragazzi E' il pompa P Pompa P, no davvero, what? Furto pompa Ok, non ci risopro, prenderci la mia Confirma Eh ma porca, lo sapevo Vediamo un attimo, dovrei avere qualche altra classe Tipo, il cecchino non penso è un'ottima idea Oh, praticamente quasi quasi, vado col cecchino Oh mio Dio, sarò il fighissimo col cecchino Non farò mai una kill Non certo, però proviamoci Sarà bellissimo fare le kill, fare non, le non kill Anche perché qua non si può fare più hit marker Cioè no, si fanno ancora hit marker, non si fanno no scoop Quindi what? Ma questa map la giocò, la giocata in Capture the Flag, non è male E quindi, boh, potremmo provarmi Adesso proviamo qui, siamo andati un attimo con me Ah si sono Ah ok, questo è tipo Non è un Porca vacca, non l'ho beccato Volevo beccarlo ma, come vedete E' un fucine, è un fucine, non è Come si dice? Non mi viene il termine Abbiamo un'arma Oh abbiamo due pistole, mi piacciono Oh carine, sono tipo le P250 o le P250 Comunque quelle pistoline carine che si usavano tipo sul COD tempo fa Non so se si usano ancora però in teoria dovrebbero essere belle Oh il cavolo mi amato Oh sono carine queste pistoline Ah mi piace avere un sacco queste pistoline Oh si che sono carine Ah no, è anche una buona mira quello che ho visto Guarda lì, guarda quello, guarda quello, me lo becco Mai seguire un nemico Infatti non sei mai sicuro se lo becchio Eh lo sapevo che c'era qualcuno là dietro Va bene, fa nulla Non preoccupatevi Andiamo a provare a uccidere qualcuno col cecchino Bella, strage Ok, allora Cecchino non è il massimo Però potrei sempre camperarmela qua e uccidere qualcuno Se riesco Andiamo un po' Prima che adesso saltano come i pazzi Quindi Ucciso Ok, fottuto alla grande Andiamo un po' Cerchiamo di camperarcelo un pochetto Perché voglio fare qualche altra headshot Quello era un headshot di brutto ragazzi Non riesco a salire più di così Quando non sono da questa parte Quindi what? Questa cosa? Ma lì vuole andare Ma diamine L'ho beccato L'ho beccato Ha voglia L'ho sparato tipo in bocca Gli ho detto ciao Vuoi essere sparato in bocca? Lui mi ha fatto sì Subito Ok Questo è il mio Lo ripiglio Sembra giusto Aia Quattro di me sta Da stai? Che è andato ragazzi? Boh, è scappato Io l'ho pronto a uccidere Invece lui No Se ne è andato Ho fatto No Ulisse Non mi avrai mai Eh, al contrario Protettare Ah Ucciso anch'io stavolta Ma c'è il coltello allora? Oh Allora c'è il coltello Che ne so io Sembrava di no? Oh Allora c'è qualcuno No È scappato il tizio È andato Allora lo becchiamo Tranquilli ragazzi Tranquilli Non c'è Non c'è da nessuna parte Ok Facciamo cecchinari da capo Come Come prima Abbiamo deciso qualcuno Penso farò uno score tremendo qua Che tipo Non ne ho beccato manco uno C'è L'ho beccato di qualcuno Che C'è il russo C'è Certo amico Certo Ti capisco Non preoccuparti Di sopra non si può salire No Per cacca È brutta cosa Probabilmente è stato carinissimo Camperare di sopra Uh Beccato Ragazzi Non scoop In faccia Sì vabbè Non scoop In tira Scusa Non sono stato io Ah no È creduto qualcosa Oh Questi sono i cosi Classici Tipo perché ti lanciano I classici perché ti lanciano E tu li becchi Tranne se il fatto che c'è un nemico Che ti ammattano Eccolo lì tipo Vabbè Ok no problem No problem Possiamo sempre Rifarci adesso Uh Possiamo sempre Farci il camper qua Ma dai L'ho beccato in testa Non dirmi di no Cioè no Magari non l'ho beccato proprio in testa Però siamo lì dai Ma cosa era di attivo lì Ah La nuke ha fatto Sai che la nuke Ma Cos'è quella Una barriera Oh mio dio Perché vedo cose strane su cod L'ho beccato comunque Un po' di cecchinaggio lo sto facendo Però Ragazzi È una brutta cosa Cecchino così È tipo L'ammoso Non è il bello Guardate che passo di qua Che ho visto un tizio Che stava passando Non so dove è andato Uno qua sopra Poi si è sceso A qualche parte Sta lì Viene Orca vacca Eh lo sapevo Che c'era qualcuno dietro Te pareva Perché uno non può seguire Una persona da solo No no Devi venire Pure tipo il manager Devi venire qualcun altro Questo cecchino però Ti limita un po' la visuale Quindi quello è un problema È tipo Non riesce a vedere tutti i nemici Soltunatamente Oh merda Aia Vabbè Eccolo lì Porca caca L'ho visto troppo tardi Vabbè fa nulla Qua dovrebbe arrivare qualcuno Dovrebbe arrivare Uno l'ho beccato però in volo Cioè più o meno Stiamo un po' imparando A usare anche il cecchino ragazzi Cosa che non imparerò mai Sicuramente Però dettagli Fa nulla Fa nulla Oh merda Hit marker di merda Non un one shot A sto cecchino Quello è un problema Però è pur sempre Dio santo Mi piace un sacco Quel fucile Che spara Un laser assurdo Fa un male assurdo E soprattutto In questo tipo di partita È molto utile Quindi Bom Usate Ma porca caca Se magari riesco a beccare Quel tizio Che si accampera lì sotto Poi non è solo un tizio Si accampera un bel po' di gente Lì sotto Mi ha visto vero? Cosa vuoi Usiamo la K12 Ma porca caca Troppa gente Troppe persone Davvero Ma what the fuck Cioè ragazzi L'ho buttato tre colpi In faccia No in faccia no Però magari l'ho beccato Comunque tre volte Dovrebbe essere morto Ok Va bene Fa nulla Allora Anche questo gameplay È andato via Spero vi piaccia Questo cecchino Che a me fa schifo Sicuramente Lo so anche Scarsoso Però Guarda Guarda quello Quello Mi fucile Mi fa un male assurdo Allora ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nella prossima partita E da le sante si è tutto Ciao ciao